il gusto dello scatto o uno scatto di gusto è un gioco di parole nell'un caso e nell'altro però c'entra il tuo modo di apprezzare il cibo e l'ambiente che lo genera una foto la tua foto può illustrare meglio di un discorso lo stile di vita più sano questo concorso internazionale di fotografia Expo Campagne è anche un'occasione per mettere alla prova la tua capacità quella che Henri Cartier-Bresson l'occhio del secolo il mago francese dell'immagine chiamava l'istante decisivo l'istante decisivo del click Grazie a tutti